La tanto attesa opera anti-erosione nel comune di Alba Adriatica si farà, ma i lavori inizieranno dopo l'estate. Ad annunciarlo il sottosegretario della Giunta regionale Umberto D'Annuntis, che ha voluto spiegare le motivazioni del rinvio dell'opera da 2 milioni di euro, che prevede due pennelli perpendicolari insabbiati e un mega ripascimento da 100.000 metri cubi di sabbia per la costa nord al Benz, devastata da erosione e mareggiate. Il sottosegretario, nella nota inviata attaccato il centrosinistra non solo, ha anche chiesto scusa per non essere riuscito a portare a termine entro il 30 giugno gli interventi. Il cantiere avrebbe invaso l'arenile, spiega, costringendo l'interdizione di spiagge e mare per giorni nel vivo della stagione estiva. Si è concluso l'iter autorizzativo con il parere favorevole della conferenza dei servizi e del servizio rifiuti regionale, scrive Danuntis, è per me doveroso fornire le informazioni corrette tenendo anche conto degli allarmismi e delle inesattezze diffuse ad arte da chi non è stato in grado in passato di risolvere il problema. L'arte ha confermato l'idoneità delle sabbie certificando nuovamente la compatibilità. Le analisi hanno evidenziato inoltre la non presenza di specie di interesse conservazionistico. L'avanzamento del progetto in questi mesi è risentito purtroppo di rallentamenti dovuti alla necessità di essere autorizzato nelle varie procedure ambientali. La riflessione ora si sposta sulle tempistiche di avvio dell'attuazione che prevedono inoltre un necessario preavviso alla Capitaneria di Porto e al Comune di Alba Adriatica. Data la stagione oramai avviata, una stagione già difficile per gli operatori che stanno faticosamente superando le ripercussioni dell'emergenza Covid, l'intervento inizierà solo dopo la stagione estiva.